Buona domenica, una domenica speciale. Oggi è 28 marzo 2021, la domenica delle palme. In questo periodo un po' tragico, il lockdown, alcuni artisti hanno realizzato, in piazza dei Santi Prisco e Agnello, un giardino delle opere d'arte. Un giardino in cui sono rappresentate i simboli e la passione di nostro Signore. Un complimento e un grazie a tutti coloro che si sono adoperati per realizzare una così bella scenografia. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.